C'è stato un avvicendamento ai vertici della Turismo Proclusone? Sì, il 30 di gennaio, preso atto delle dimissioni del Presidente Giovanni Barretti, che comunque ringrazio, sono ancora membro della nostra associazione e ha svolto un ruolo molto importante durante il suo mandato, appunto il 30 di gennaio si è provveduto al rinnovo delle cariche il nuovo Presidente Balduzzi Marco, il Vice Presidente Simone Fotti, tesoriere Lazzarini Vladimir e io attualmente sono segretario. Però questo rinnovo, oltre al fatto che abbiamo accettato le dimissioni del Presidente, sono transitori, nel senso che l'intenzione della Turismo Proclusone è quella di procedere a un rinnovo, cioè a una nuova elezione, indizione di assemblea, elezione di nuovi soci, cercando di portare all'interno del Consiglio Direttivo nuove figure, nuove persone che possono portare dei valori aggiunti in idee, progetti, proposte. Per questo motivo si sta iniziando tutto un percorso che tra l'altro era già previsto dal Consiglio Direttivo prima delle festività natalizie, ma non ci sembrava il caso di iniziarlo in quel periodo perché la gente era impegnata in tutt'altro. Questo percorso prevede degli incontri, tra i quali il primo è giovedì 9 febbraio alle ore 20.30 presso la Turismo Proclusone, invito rivolto principalmente in questa prima fase ai commercianti e aspettiamo numerosi. Si discuterà se c'è qualcuno che vuole darci una mano dal punto di vista materiale e pratico e si ragionerà anche sulle idee future perché comunque l'ufficio turistico gestito da Turismo Proclusone funziona, fa il suo lavoro, sta organizzando il Carnevale e in virtù di una convenzione questo lavoro non si mette in discussione. E in questo percorso state coinvolgendo anche l'amministrazione comunale? Sì, proprio nella stessa seduta del rinnovo delle cariche c'è stato un incontro con tutti i rappresentanti dell'amministrazione, perciò parlo sia dei rappresentanti di maggioranza che di minoranza, in cui si è condiviso questo passaggio di allargamento e di maggior coinvolgimento. Tutti si sono impegnati a proporre a persone di entrare a far parte di questo consiglio direttivo proprio per le finalità di cui parlavo prima. Nel frattempo, durante questo percorso andremo anche a modificare lo statuto che è un pochino adattato e ha bisogno di qualche rettifica anche proprio per permettere di accorciare i tempi e le possibilità in questo modo di avere nuovi soci che possono poi essere candidabili alla stessa assemblea e diventare soci. Si inizia con i commercianti e poi continuerete anche con altre realtà della cittadina. Certamente, c'è la solita riunione con le associazioni che facciamo tutti gli anni e la allargheremo anche con questa finalità. Ma ricordo che la turismo per Cusone è di tutti, tutti i cittadini di Cusone possono portare il loro valore aggiunto sia in termini di sovvenzioni, sponsorizzazioni, eccetera. Ma ripeto, il nostro obiettivo è quello di trovare un gruppo che porti idee, proposte, progetti e che poi si faccia anche participe di quanto si va a realizzare.